Ha firmato e accettato gli incarichi questa mattina al neoassessore Corra Fattori che alle 8.30 si è recato in municipio per dare avvio al suo mandato. 41 anni laureate in ingegneria edile e architettura, consigliera comunale di più Europa e presidente della commissione consigliare servizi finanziari. Fattori è già titolare della delega all'efficientamento energetico della città. Al neoassessore Seri ha affidato le deleghe alla cultura e ai beni culturali, all'ambiente, alla smart city, all'innovazione tecnologica e al sistema informatico comunale. Altre deleghe invece sono state redistribuite. A Barbara Brunori si aggiunge la delega ai lavori pubblici, mantiene quelle allo sport, al decoro urbano e alle nuove generazioni, ma perde, oltre all'ambiente, la delega alla partecipazione che comprende i quartieri e la cittadinanza attiva. Queste infatti sono state attribuite a Detti e Lucarelli, già assessore agli eventi e alle attività economiche. Questa mattina Fattori ha partecipato alla sua prima riunione di giunta, insieme a lei una delle sue figlie, Elena, di appena 4 mesi. Al suo posto in consiglio comunale subentrerà Filippo Borioni. Corana, tutte deleghe importanti, tra l'altro durante la conferenza stampa ha detto che ambiente e cultura non vanno in antitesi. Assolutamente no, ambiente e cultura vanno a braccetto ed è significativo il fatto che la cultura sia stata data assieme all'ambiente perché vuol dire, testimonia, la direzione che vuole prendere la pubblica amministrazione. In conferenza stampa abbiamo parlato anche delle gravi criticità dal punto di vista economico che questa emergenza energetica ci porterà e a maggior ragione una delega puntata sull'ambiente ci fa capire che quello energetico e ambientale vuole essere un cardine di questa amministrazione con questo nuovo corso. Speriamo di riuscire in un anno e mezzo a fare il possibile perché i tempi sono assolutamente veloci. È il proseguo di un percorso che abbiamo già cominciato da anni, anche con la delega consigliare, con la collaborazione dell'assessore in primi stonelli e anche con l'assessore Brunori e quindi speriamo di proseguire in questa direzione. Sui beni culturali invece? Sui beni culturali sarà importante garantire la fruibilità e l'accessibilità. Sono contenta che su un bene culturale cardine come il Teatro Romano sia mantenuta la delega al consigliere Stefano Marcheggiani che è di famiglia diciamo perché fino a questa mattina eravamo in gruppo consigliari insieme, persona assolutamente straordinaria e sarà importante rivalorizzarli e renderli sempre più fruibili anche in vista di Pesaro 2024. Cora è giovani, dinamica e operativa, ha commentato soddisfatto il sindaco Seri a un anno e mezzo dalla fine del mandato, ha ricordato il primo cittadino. Questa è la fase in cui dobbiamo portare a compimento gli obiettivi che ci siamo dati e l'ingresso di fattori, ha detto, è un'occasione di rilancio e di rinnovato invito ad essere una squadra. Noi abbiamo bisogno per approntare le sfide anche di innovazione nel modo di agire con il pragmatismo ma anche cogliendo quelli che sono i cambiamenti. Avevo un'esigenza di riattribuire la cultura, l'ambiente è un tema di quelli forti, lo vediamo con i cambiamenti climatici ma c'è tutto un tema vasto e importante che vede tanti fronti e mi piace abbinare anche quest'idea cultura-ambiente. Detto questo faccio gli auguri al nuovo assessore e si riparte con gli obiettivi da perseguire da qui a fine mandato.